Parliamo di calcio e della scelta del nuovo allenatore del Pescara. Da giorni si parla di un possibile, un probabile ritorno di Zeman sulla panchina bianca-azzurra, ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Massimo Profeta. Buonasera Massimo, quali novità ci sono? Sì, grazie, grazie Gigliola. Un saluto a te e a tutti gli amici di visione all'ascolto. In sostanza una giornata al momento interlocutoria, perché c'è ancora una serata da trascorrere e da vivere. Zeman, facciamo un po' di cronaca, ha lasciato Foggia questa mattina e ha raggiunto la sua residenza romana e quindi ci sarebbe dovuto essere, era previsto, quantomeno previsto, un contatto telefonico con il DS in pectore. Il neo DS del Pescara non è stato ancora ufficializzato, ormai si sta muovendo praticamente da direttore sportivo Daniele Dell'Icari. Ebbene, questo contatto telefonico non è avvenuto. Al momento non c'è ancora stato. Ricordiamo che Zeman si era impegnato a restare a Foggia con un'altra proprietà. Se mai ci fossero i presupposti, i tempi affinché si concretizzi però il passaggio di consegne sarebbero lunghi. È arcinoto infatti il contenzioso tra l'attuale patron canonico e l'ex proprietaria, la signora Pintus. Sulla carta Zeman sarebbe pronto alla terza esperienza sulla panchina del Pescara, ma restano tre condizioni, secondo noi, imprescindibili. Intanto il contatto. In realtà, Gigliola, ce ne sono stati diversi in questi giorni tra il Boemo e il DS del Pescara Daniele Dell'Icari, ma quello di oggi, quello importante che tutti aspettavano, ancora non c'è stato. E poi l'incontro, perché dopo un contatto è chiaro che dovrà esserci un incontro, non c'è ancora stato naturalmente, e soprattutto poi l'accordo e dal punto di vista dei programmi e dal punto di vista economico. C'è poi la questione non secondaria, direi, del rapporto tra il presidente del Delfino Daniele Sebastiani e Zeman, che come tutti ricordano si è interrotto bruscamente quattro anni fa, era marzo 2018, anche se da parte del presidente c'è stata un'apertura, un segnale di apertura, proprio nel discorso collegato via Zoom durante la trasmissione Solo Calcio, Sebastiani ha testualmente dichiarato Zeman non posso chiudere le porte ad un tecnico che ha segnato la storia del Pescara. L'altro papabile alla panchina biancazzurra, ne parliamo ormai da settimane, è Alberto Colombo, ex Monopoli, aspetterà sino a domani, domani, giovedì appunto 16 giugno. Il tecnico Lombardo è allettato, insomma, dalla prospettiva di guidare il Pescara e ha già rifiutato le proposte del Foggia, che tra l'altro ha già ufficializzato il nuovo allenatore, si tratta di Boscaglia, ma anche la proposta della Carrarese e del Renate. Non sembra però Colombo un'opzione calda, insomma, vedremo Zeman oppure un altro candidato che al momento non riusciamo a individuare. Si sta parlando anche di mercato, perché Delicarri, che non è stato ancora ufficializzato, come ho già ricordato, si sta muovendo a 360 gradi. Ebbene, piace il centrocampista della Reggiana, Igor Radrezza, 29 anni. La Reggiana però chiede una contropartita economica. Meno complicato arrivare al regista Francesco Giorno, classe 93, 29 anni ancora da compiere. Quest'anno alla Triestina, ex monopoli, ma di proprietà dell'Alessandria. Staremo a vedere, Gigliola.